ok ragazzi siamo tornati e stavolta ho deciso di andare in Cina o Giappone non so neanche io dove vengo non so se c'è una maglietta e Isra tu dici quello che devi dire ma ora ma raga ma quanto scavo no 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 quello no passami la maglietta solo la maglietta la maglietta si se no qua faccio bagnare le ragazze del ragazzi da tre settimane che non facevo un video perché hanno deciso di non cantare più se decidono di non cantare più io devo riempire il mio canale comunque siamo quasi a mille iscritti devo ringraziare chi mi ha sopportato dall'inizio quindi io dj pasquale e Isra abbiamo deciso di andare in in Cina a quindi per provare questa bellissima esperienza diciamo con Uchiwa no con Uchiwa giapponese non so cosa hai capito il titolo della BTS oh cazzo dynamite official mv pisa e quinta intendenza in italia poi trentun milioni di visualizzazione solo in due giorni facciamo un giorno perché siamo uscito a mezzanotte 5 milioni scusa ma io non so quanti visualizzazioni farò su questa canzone perché nessuno fregherà un cazzo ma ci proviamo no proviamoci 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 dovo rampire il mio tempo libero con izzy facciamo 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 ti piace bello si mi fa cagare è un po stupido fino prima ti piace bello però è un po stupido che nebbia è in inglese cantando in inglese è un po di cinese non so io ho scatato un loro pezzo mi piaceva del bts cosa non è male la tipa aspetta non ho capito oh mio dio ma mio dio mi spieghi come cazzo fa essere questa una tipa è una tipa fidati è un maschio vedremo vedremo i bts sono un gruppo maschio non sono blackpink blackpink e ma chi sono questi qua dietro allo sfondo ah comunque ragazzi vi dico questo qua chi sono questi sono un zio poi come cazzo dov'initi registro un pezzo gratis hai 5 secondi 5 beatles grande comunque nel ptosto faccia parte il papa di mike leone come so che è mike leone la pasta questo è mike leone ho sentito che spiega lascia perdere oh ma si sono maschisi oh ma si sono maschisi raga sembra un pezzo genchi da a me piace oh raga 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 se arriviamo a 10.000 so che è impossibile visualizzazioni io e christian ci facciamo i capelli blu non è che il mio canale in tutto ci facciamo se arriviamo a 10.000 visualizzazioni siamo già arrivati con supreme da supreme ne ho fatti 8.000 saremo 10.000 visualizzazioni su questo video che poi nessuno guarderà facciamo i capelli blu sai che sono vestiti come i beatles si perchè copiano i beatles ma come copiano i beatles copiano i beatles ma come copiano i beatles non sono i beatles non sono i beatles ma sono vestiti da beatles ma scusa questa nuova generazione tutti copiano tutti ma perchè se tu a carnevale ti vesti da superman mica stai copiando superman no perchè è il vestito che mi piace ecco loro sono vestiti perchè gli piacciono i beatles scusa ma chi copia beatles e balla come michael jackson? eh copiano anche michael jackson ah quindi se tu balli come michael jackson vuol dire che sta copiando michael jackson? si e questa teoria da dove cazzo ti è uscita? prendo un buco di culo beh immagino c'è uno che mi dice che quello è una femmina poi mi viene a dire che dai dillo così non direi che sia una femmina guarda la canzone eh? io devo aggiungere la mia pelisse mentre mi lavo si chiama no no è pelisse doccia quando tu stai facendo la doccia io non so il tipo che quando fa la doccia ascolta galli quelli la io quando faccio la doccia io canto canzoni country pop madonna ariana grande e tutto ora aggiungo anche bts non è male cioè dovresti mettere like solo perchè è l'unico nero che fa ste gagate cioè anche fa gagate l'unico tipo che fa reaction no no lui sembra una febbre visto? ma no perchè mi sa che mi sa che alcuni non diciamo froccio perchè non è educata uomo sessuali uomo sessuali mi sa che uno dei due sono cinque i bts uno dei due o due di loro mi sa che sono uomo sessuali noi non siamo contro siamo dentro noi siamo frocci E' anche bravi, eh? Eh? E' anche bravi, eh? Quelli di nuovo che si spoglie Non puntiamo il dito Cioè, un nero non punta il dito Ma sarà quello, no? Basta da lui, basta da lui Eh, sono penne di figa No, 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 no 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 Wow Sincredibile Fare 30 milioni di visualizzazione così Sembra assurdo, ma Secondo me in Cina sta andando famoso con la canzone Ma sa che loro sono dei pop star internazionali Ma nessun italiano lo ascolta Fide Penso che se nessun italiano ascoltasse sarebbe quinto in tendenza in Italia Può dire che c'è una cosa che non va Ok dai questo video è finito Sì auguriamo auguri al nostro negrettino GB Che oggi compie quanti anni? 17 17 ma meglio di niente dai Ehm auguri a quel negretto e smetta di scrivere sotto i miei commenti Se non lo ammazzo Dai auguri Questo video è finito e ci vediamo un altro video Noi dobbiamo tornare in Italia adesso Perché ora prendiamo il treno e ritorniamo indietro Perché la situa qua è gravissima Speriamo che non ci mettono in quarantena Se no ogni buco sarà una trincea Ci stanno aspettando i nostri follower Quindi ci vediamo Ce lo perdiamo l'erio Ciao ragazzi Domani Non so che cazzo farò Basta consigliate Nella descrizione Se sono canzoni che volete fare Perché ultimamente mi sto annoiando O se volete sapere come mi chiamo su Instagram Grazie per un altro video Grazie per un altro video Grazie per un altro video